Salve ragazzi bentornati in questo nuovo video, oggi recenseremo il dunks, pure sbiadito, è umido, comunque liquido al biscotto credo, non so il dunks che sarebbe a significare, c'è la foto di qualcosa cremoso, tipo la glassa delle sambelle, proviamo, mai fumato, oddio, dicendo i due, io non l'ho fumato, mi sa che ha perso la boccetta anche perché è caro, no quando mi è arrivato era bagnato, tutto umido, è dolce, tanto dolce, la 0-3 di nicotina, cioè 3, è dolce, molto dolce, dammi una mano, tanto dolce, no, è dolce giusto eh, è dolce ma buono, io intanto drippo, le percentuali di vg e pg non ci sono dietro la scatola, però non ho su vg e sfigurato, no, no, è troppo liquido, capremo su mafoi, su indistractible, con resistenza da 0-30, 6 spide di canta alla 1 sul 3, il diametro del 0-3, 6 spide di canta alle 3, 5 spide di canta alle 3 spide di canta quindi ci sono questo. beh cazzo è buono però è buono però è blando è blando non si capisce bene cos'è sa un misto di crema non riesco a capire che crema tra è un misto tra quelli quei biscotti quelli quelli morbidi cremosi non mi ricordo come cazzo però si sa tipo del ripieno di plum cake però più dolce però non sturba no non sturba però aspetta no no stia pensa un attimo diva pure una panavalanca anche questo guardate sta tenetemi così perciò è un po' difficile fumare le polmone ma aspetta perchè è abbastanza ignorante con il dilettino piccolo guardate non lo so non lo so beh allora ma i cazzo si chiama la alba di morti guardate che spettacolo è un effetto quando io devo stare dietro e tagliare il fumare vabbè comunque ora ve lo faccio vedere vicino ma anche queste cose si dai buono un bel po' dai buono allora il voto che io posso dare è un 9 ma 9 per semplice fatto non gli do un 10 perchè non riesco a capire bene cos'è? di di che sa? è parecchio blando è dolce è buono ma non riesco a capire l'origine mi spuglie fatto sta che è buono fatto sta che me fumo fatto sta che so 30 ml e costa 16 euro fa 17 euro sul negozio fisico costa ovviamente un po' di più ma su una vendiadella no più una trentina di due però è una bomba è una bomba però secondo me a lungo può disturbare perchè è parecchio dolce è tanto dolce è dolce parecchio però a me dolce così mi piace capito? si però fumo daSumarlo tutto il giorno no magari un po' dai non c'è Becca fumo fate effettate non aspetta, aspetta che è molto sbagliato aspetta, c'è un altro fornitro dopo avervi fatto anche io perchè si notte ragazzi ripeto la percentuale non c'è non c'è però 80, 70 80, 20, 70, 70 70, 30 qual è il niente adesso lo faccio vedere qua sopra che la luce no? aspetta che è una roba impressionante è buono sicuramente la nicotina aiuta la nicotina aiuta tanto perchè se lo compri a zero ti farai una pipetta di ricarica e poi la rimetti via perchè te no senza nicotina penso proprio di no non sarebbe stato male se... però capito io però io tipo già adesso tipo già adesso se ti vedo di fumetelo per altre tre ore finito l'ombra sulla tenda? in altre tre ore ti diri di no di fumamelo per un altro per tutta la sera si però c'ho un manco da vedere buono 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 adesso mi sembra che ho venuto in casa ahahahah guarda che casa mia ahahahah tra l'altro tra l'altro location cambiata perchè stiamo a casa tua si vabbè dettagli guardate ragazzi eh si ho capito ma però c'è una banca che neanche parliamo che dico? conclusione del video il tanks è buono è dolce è tanto dolce si no che anch'io però però è un liquido da sbappasso ogni tanto perchè io già se mi dai solo questo stasera io non sbappo più stasera no basta fine perchè dopo un po' va stufo ma va stufo non perchè non è buono ma perchè lascia la bocca dolcissima non è proprio dolce è zucchero però questo comunque si va vinto basta è buono però no quindi ragazzi iscrivetevi al canale vi aspettiamo nei prossimi video lasciate un commento lasciate un like ovviamente sicuramente e se avete domande da fare fatele senza nessuna ombra di dubbio sarete risposti del più presto del più breve tempo possibile si appena vedo un commento che ne vediamo un commento e ragazzi buone sbappate a tutti sbappate con la testa non fate spronzate soprattutto state attenti a quello che fate state attenti perchè prima di fare qualcosa informatevi ci vediamo nel prossimo video e vai con il Danks ciao 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 ciao